Oggi intanto è stato tempo di una conference call tra FIGC, presidenti delle leghe e componenti federali, ovviamente sul tavolo il futuro dei campionati e la griglia di promozioni e retrocessioni. C'è una nota firmata dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che si è detto pronto a creare un tavolo di collaborazione con la Lega Nazionale Direttanti. Il presidente Sibilia spiega Ghirelli è preoccupato per le sue società, per le quali permarrebbe l'obbligo della fideiussione e ci chiede di conoscere se legalmente si regga la nostra proposta. Lo abbiamo rassicurato, spiega Ghirelli, e siamo pronti a fornire i relativi pareri in sede federale o durante un incontro tecnico tra Lega Pro e Lega Nazionale Direttanti.